Portare le persone a lavorare in ufficio è un crimine contro l'umanità. Ma perché c'è ancora gente che va in ufficio nel 2024? Oggi ci ho sbroccato con la mia compagnia telefonica perché mi dovevano regalare i tablet in regalo con l'abbonamento telefonico ma io non ero in ufficio. Allora il tipo ci ha sbroccato e mi fa sono qui alle 9 di mattina perché non c'è nessuno in ufficio? E io gli ho detto man, perché nel 2024 io vengo in ufficio quando ho da fare dei meeting, delle chiamate importanti o quando devo registrare dei contenuti, non sono in ufficio lobotomizzato tutto il giorno lì a fare lo schiavo del sistema nella Matrix. L'ufficio serve per venire, fare business e andarsene a casa. E se sei un titolare d'impresa devi capire questo che buttare tutte le persone in ufficio a lavorare così come i cricetti non funziona più, è roba del vecchio mondo. Oggi la produttività che puoi avere lavorando da remoto è 10 volte superiore con molti meno costi, non ti devi smaronare a prendere uffici giganti, non devi spendere tutti quei soldi. Ma perché c'è ancora gente che non lo capisce? Nel 2024... Grazie a tutti. Grazie a tutti.